No, non sono l'ultimi momenti di foglie di Nalaschi e lì non farà la protagolistica Certo? Certo? Sì, sì, stavo guardando, è sempre l'idea Un punto di benessere in un'infezione di overtake Ospinati per 7 giorni, seguite in avest, in mensu, come si trattino rum.it e nelle dirette quotidiane sulla pagina facebook e qui da un neste Lasciatvi te, colongere, dalle entusiasmalte, infolziosite, a un fierturto da un neste Sì, è un po' di rinforzamento, ma è un po' di rinforzamento, ma è un po' di rinforzamento. Sì, è un po' di rinforzamento. Sì, è un po' di rinforzamento, ma è un po' di rinforzamento. È un po' di rinforzamento, ma questa regione è anche famosa per il scello. È un po' di rinforzamento, ma è un po' di rinforzamento. Sì, è un po' di rinforzamento, ma è un po' di rinforzamento. Sì, 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 è un po' di rinforzamento. E' un servizio qui, non è qui, non è immediato, ma... E' meglio stoppare per un secco, magari questa è qui... Sì, solo per... Dovete qualcosa? No, no, no... Ok, possiamo solo stoppare qui Andiamo, Molly, sì, sì... Ok, un secco, vediamo cosa ha... Non lo so... Cosa c'è Molly? Sì, sì, ho trovato... Adesso guardavo in dietro... E' l'ho fatto... E' l'ho fatto! E' lì! E' lì! E' l'ultimo momento di follia... E' l'imparagno di questo film... E' lì! E' lì! E' lì! E' lì! Non posso esaurire un overtake Cos'è? Sì È molto scherzo Ora lo vengono in il coronavirus Un souff collaborators Il contributo出ato fuori Oltre è la questa Tutti mostrato e anche la spazio, non si sa è bello perché sono tutti in base, come i cacchi ma questa regione è anche famosa per la milchia oh sì, il video di questa regione è qua sull'acqua, non sono sicuro sull'acqua di cacchi ma ovviamente dovrebbe essere anche bene ovunque non è vero, non è vero non è vero, non è vero non è vero dove sei? dove sei? ok stop ah no, dobbiamo stop si è panting potrebbe avere le pote o non si sente bene ok non è vero non è vero cosa c'è Topolino? cosa c'è Topolino? non è vero dove è la legata t-shirt? eh? dove è che mi stop ah, beh, un servicario non è vero non è vero non è vero non è vero ma è meglio stoppare per un secco magari questo è è vero sì solo per dire vuoi qualcosa? sì no e dalle t-shirt stavo per dire e dalle compilation esatto nel nostro Armandia ci sono compilation e t-shirt per i nostri ascoltatori che vogliono giocare al nostro Mischia Tutto il Mischia Tutto di Radio Multicaro anche se ogni tanto fanno i difficili, non si fanno trovare si, succede anche questo, per cui insomma quando si chiama bisogna venire in onda per mettersi alla prova e ma i prodigi della tecnologia vogliono che di tanto in tanto salti anche la linea infatti stiamo cercando di metterci in comunicazione appena caduta la linea con Walter da Catania Walter mi raccomando, insomma fate trovare, so che magari questo è un orario di ufficio per cui magari cominciate a lavorare, però in panel ci sono una t-shirt e la copiata è arrivata con delle bellissime tracce, vale la pena soprattutto per divertirsi giocare con voi, vediamo se l'abbiamo recuperato, Valeria, Valeria no, abbiamo Valeria, c'è Valeria, hai visto? questa in questo caso è stata fortunata perché c'era Walter ma evidentemente non siamo più riusciti a recuperare la linea quindi avanti con te, da dove sei Valeria? Di Pavia che cosa fai di bello nella vita? bello ancora ma sei giovanissima, quanti anni hai? sedici sedici anni, e che cosa fai? ora mi ero in una legge molto in matura, te lo posso dire bello, che mi sta andando? bene, 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 senti, speriamo vado a valerio sì, pronto, ti facciamo sentire un'altra cosa, giocheremo ci sento doppio, Valeria, allora ti facciamo ascoltare è un mix praticamente, la musica appartiene ad una canzone, il testo invece ad un'altra ascolta un po' molto attenzione, devi cercare di illuminare sia l'una che l'altra, ok? sì via è un'altra cosa che c'è? sì è anche la uscela è un'altra cosa che è? è un'altra cosa di realtà mi fa Allora, Galeria, buio totale. Beh, devo pensare alla canzone che ha detto il posto che mi sapevo, dove c'è? Gammarani, come si chiamava la canzone? Multidentalità, e siamo già a metà dell'opera. Poi, insomma, adesso tu studi liceo, l'inglese lo studi, giusto, la carriacchia. Ok, allora, come diresti, in inglese, andare all'estero, andare all'unfinito, senza il soggetto, senza il mondo, ok, ovestero. Come si chiama il soldo quando sono i fiumi ambientati, coi pistoleri, ammietati nel faro? No, 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 no. Meglio di una, meglio che le lezioni di inglese è stata questa quarta. Avresti preferito un'interrogazione in chimica, non lo so, in filosofia è un contesto. Valeria, allora, complimenti per te la nostra compilation, la dicevo di Montecarlo. Ciao e buon pomeriggio. Ciao, anche voi. Ciao, anche un weekend, ciao, Valeria. Ci abbiamo fatto, oggi. Sono un po'. 14 e 31 minuti, adesso Portugal, The Man, questa è Filestil. Ciao, anche un weekend. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti